Nata a Roma da famiglia aristocratica franco-napoletana, discendente dell'ammiraglio e senatore del regno Francesco Grenet, è figlia secondo genita di Mario de Grenet figlio di Ugo de Grenet e di Amalia de Sangro, principessa di Fondi, e di Gabriella Marina. Di recente Samantha de Grenet ha voluto condividere sul suo profilo social una serie di foto, che hanno messo sicuramente in risalto il suo splendore. Ma la caduta le ha impedito di fare una cosa. Ne ha parlato proprio lei attraverso l'uso della didascalia. Sei perfetta anche così avrei voluto mettermi un tocco 12 ma in me sono caduta dalle scale e mi sono rotta quel mignolino che serve a poco. Ma quando lo tocchi fa vedere le stelle. Ma quando Monica Setta e Generazione Z chiamano io corro si fa per dire. Nel post che ha pubblicato di recente su Instagram Samantha de Grenet, si mostra, con un paio di scarpe da ginnastica per questa problematica. Un piccolo imprevisto che non le ha impedito di mostrarsi davanti alle telecamere. Ciò significa essere davvero una professionista e proprio per questo motivo ha ricevuto tantissimi complimenti dai suoi follower. Ecco uno dei tanti. Ma tu sei bellissima sempre Samantha. La classe non è acqua e sei favolosa, anche, con un paio di scarpe da ginnastica. La classe non è acqua e sei favolosa, anche, con un paio di scarpe da ginnastica.